Le prime quattro fada del girone passino alla fase successiva portandosi dietro in eredità i punteggi degli scontri diretti, qualche problema in ricezione, attacco dalla seconda linea di Mamato va a mettere in difficoltà la Russia ma non quanto servirebbe qui gioca un grandissimo pallone al coraggio Liuba Chilici di spingere comunque vedete se la ride perché in effetti se non avesse trovato...